Ecco, fanno rientro negli spogliatoi dopo l'espedizione, il gruppo... Salutiamo zio Carlo! Ehi, bravi! Grazie, bravi ragazzi, bravi! Bravi, ve lo rivedete stasera! Posso? Muovici, penso io! Forza, 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 ecco il gruppo della mister Anna e il gruppo di mister Gabriele, fanno rientro negli spogliatoi, è stata positiva questo raggruppamento disposto dalla federazione qua a Fara San Martino, Piovo in alta montagna, aria fresca, la patria della pasta, e stasera mi faccio pure io un bel piatto di spaghetti. Sinceramente signori, alla prossima ripresa! Pioviscica, adesso ha cominciato a pioviscicare, dentro che fa freschetto, su ragazzi, su che fa freschetto, su, bisogna ripartire!